Avevamo preannunciato una giornata ricca di gol ed effettivamente abbiamo avuto ragione, rimonte colpacci e sorprese. Insomma, nella quindicesima giornata c'è di tutto. Il Bari non va oltre lo 0-0 casalingo con la Vibonese. Un'espulsione, un palo e un rigore fallito da Antenucci non consentono ai galletti di Auteri di insidiare il primo posto della Ternana. La squadra di Galfano si conferma a mazza grandi. Ed il Foggia invece ufficialmente tra le big. Violato il Veneziani di Monopoli, 3-2 per i satanelli di Marchionni. Curcio porta in vantaggio i rossoneri. Poi la rimonta dei ragazzi di Scienza porta le firme di Mercadante e Samele. Ancora Curcio per i rossoneri nel primo tempo chiude la contesa sul 2-2 e a 3 dalla fine il controsorpasso è di Garofalo. A Liguori pareggia tra la Turris e il Teramo. Entrambe con il punto consolidano le ambizioni playoff. Santoro illude i biancorussi di Paci nel primo tempo. Nella ripresa Giannone che torna al gol riprende gli abruzzesi. Show del Catanzaro a Bisceglie in caduta libera la formazione di Bucaro. Quarto stop di fila. Cittadino illude i pugliesi. Poi sale in cattedra l'attacco giallo-russo di Calabro che pareggia prima con Di Massimo. Poi subito nella ripresa in gol va Contessa e le Acule vissano il successo con Evacuo. Palermo all'inglese sulla casertana. Boscaglia rivede la luce grazie al bel gol di Rauti e a quello del solito Lucca. Guidi dopo la bella vittoria sul Monopoli torna a casa a mani vuote. Altra siciliana on fire. Il Catania di Raffaele che sbanca il Rocchi di Viterbo in rimonta. Il gol di Bezziccheri, Papelice e Taurino. Maietnei prima pareggiano con Pecorino al 78esimo minuto e poi al 94esimo completano la rimonta con Sarao. Primo punto per la Cavesa a Lamberti. Maiori stoppa la corsa della Virtus Francavilla. Finisce 0 a 0.